le potenti intercessioni nonostante la chiesa cattolica permetta molte devozioni alcune potenti rimangono nascoste eccovene un esempio la mistica anna caterina emmerich disse una volta in una delle sue visioni che le se presentarono alcuni bambini già morti che lei aveva conosciuto da bambina essi le dissero gli uomini invocano raramente i bambini che muoiono dopo il battesimo senza che abbiano perso la grazia battesimale in questo caso si parla di bambini che appunto rimangono incorrotti e puri ma essi hanno molto potere davanti a dio si deve pregare comunque naturalmente in modo particolare perché nessun bambino muoia senza battesimo ricordiamoci che il battesimo è fondamentale per quanto riguarda appunto la vita del cattolico e la salvezza in se stesso e questa apparizione che ha avuto la beata è riconducibile al 12 gennaio 1820 ma in un'altra circostanza dice vedi san luigi il re di francia si parla di luigi nono che in tutte le sue spedizioni portava con sé il santissimo sacramento e quando si tratteneva in un posto comandava di celebrare la santa messa vedi anche nelle sue crociate una volta quando sorse nel mare una grande tempesta il re che prese un bambino appena nato e che aveva appena ricevuto il battesimo sulla nave e salito in coperta lo sollevò e chiese a dio che perdonasse tutti in nome di quel bambino innocente si fece il segno della croce con quel bambino e la tempesta cessò in quello stesso istante ricordiamoci sempre di ciò che disse gesù e quando disse che i gli angeli dei bambini erano sempre davanti al padre nostro quindi ricordiamoci sempre che le intercessioni le più potenti intercessioni avvengono con tutte quelle creature che sono pure più la creatura è pura più la creatura ha potere verso dio e non è un caso che la vergine maria la creatura pura per eccellenza abbia tutte le grazie che il figlio le dona grazie 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 grazie